L'hanno definita operazione giù la testa ed ha fatto luce su un omicidio avvenuto nel 2017 nei pressi di Catona e di identificarne i presunti mandanti ed esecutori legati al clan dei Tegano. La DDA di Reggio Calabria, con il contributo della Polizia di Stato, ha fatto così luce su una vicenda che è legata all'omicidio di Bruno Ielo, che venne freddato mentre viaggiava a bordo del suo scooter sulla strada che conduce alla cittadina regina. L'ipotesi degli inquirenti è che il commerciante sia stato assassinato su un mandato di un esponente della drangheta perché non si sarebbe piegato alla volontà della cosca, che avrebbe voluto che lui chiudesse la sua tabaccheria a Gallico, aperta da circa un anno, e che avrebbe fatto concorrenza all'attività del presunto mandante dell'omicidio, appunto elemento di spicco dei Tegano. I quattro arrestati sono accusati di omicidio premeditato, tentata estorsione, rapina e tentato omicidio aggravati dalla circostanza del metodo mafioso e dell'avere agevolato la drangheta.